27 giugno 2022 inizia l'era Liberani, conferenza stampa di presentazione dell'allenatore e prima occasione ufficiale per poter vedere effettivamente che cosa è successo in questo mese di giugno al di là di tutte le voci di mercato. Ricordo mercato che inizia il primo di luglio. Eravamo curiosi di conoscere eventualmente quali sono i giocatori confermati, quali sono quelli che vengono indicati per il futuro, quali saranno i giovani da portare in prima squadra. Non abbiamo avuto molti dettagli sul piano dei nomi a livello anagrafico ma abbiamo tentato comunque di capire come si sta muovendo il Cagliari. Dobbiamo dire per ora che c'è solamente l'idea. Benvenuto, bentornato per quanto mi riguarda, visto che c'ero già allora quando eri un ragazzino che aveva grandi ambizioni e sognavi di esordire col Cagliari. Quali sono gli elementi concreti? Cioè hai parlato giustamente del fatto che comunque sia ci sarà qualcuno che rimane. Sulla base di chi rimane però bisogna costruire anche chi arriverà. E sulla base di chi rimane e chi arriverà c'è anche da considerare prima forse quali sono i giovani da valorizzare. Ecco ci sono già delle basi, cioè ci sono già dei calciatori che hanno detto io rimango perché poi una delle difficoltà dell'anno scorso è stata quella di vivere l'intera preparazione con molti giocatori con la valigia dietro la porta che peraltro toglievano spazio a quelli che magari potevano essere giocatori giusti. Ecco da questo punto di vista anche nei tempi l'allestimento di questa squadra sarà fatta a fine mercato e quindi al 31 di agosto o è preferibile visto che si tratta di una squadra nuova di avere un tempo maggiore per poter costruire qualcosa di concreto? Allora partiamo da dalla crescita negli ultimi anni del settore giovanile del Cagliari dove i responsabili Mereu, Carta e Conti insieme all'allenatore Agostini abbiamo visto questa stagione con la semifinale al titolo primavera no? E' sfuggito anche la finale per poco quindi vuol dire che il Cagliari che riesce ad entrare nell'Olimpo della primavera dove di solito sono sempre le stesse squadre Inter, Roma, Atalanta, Milan vuol dire che c'è un lavoro molto importante nel settore giovanile e credo che ci siano degli elementi interessanti. Il ritiro serve anche a questo, a poter valutare questi ragazzi quanto possono essere pronti, quanto possono essere pronti per il mio tipo di calcio e credo che ci siano dei giocatori che possono diventare interessanti ma soprattutto in pianta stabile della prima squadra. Questo non vuol dire che tutti quelli della primavera però credo che ci alla fine del mercato avremo tre, quattro, cinque giocatori della primavera aggregati dentro in pianta stabile. Sui giocatori che vogliono andare via non vogliamo mantenere nessuno contro voglia, quindi poi dopo l'idea è questa, è evidente che ci sono altre considerazioni, no? È giusto che noi accontentiamo chi vuole andare via ma deve esserci un rientro per la proprietà, per la società perché comunque ha avuto già un danno molto importante. l'idea è quella di non voler trattenere nessuno contro voglia perché credo che sia controproducente sia per chi arriva trovare un ambiente magari un pochino di astio e sia per la stagione che dobbiamo invece trovare entusiasmo, volontà e voglia. Ecco, l'obiettivo è che chi oggi accetta e viene a Cagliari lo deve fare per un punto di arrivo e non di transito o di partenza. Questa società, questa città, questa terra non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Quindi oggi noi cerchiamo che chi viene a Cagliari lo viene, viene a farlo perché è un punto di arrivo e non di partenza. Questo è l'obiettivo. Questo faccio fatica. Ci sono sicuramente già dei giocatori in quello che noi stiamo costruendo, che rimangono e ce ne sono altri che sono in dubbio. Ma questo sono in dubbio come qualche giocatore che arriverà o non arriverà. Ci sono delle trattative. La volontà è quella di avere una rosa più velocemente chiusa in più breve tempo possibile. Conoscete meglio di me i tempi del mercato che tante volte non decide la nostra volontà soltanto ma anche quella degli altri. Si è parlato tanto di caratteristiche tecniche, però proprio perché il Cagliari dell'anno scorso a vedere i nomi non doveva essere una squadra che stava in quella zona di classifica, probabilmente non ha funzionato qualcosa nel fare esprimere al meglio sia le qualità individuali dei calciatori sia le qualità di insieme nella loro relazione. Qualcosa nella dinamica di gruppo non ha funzionato. C'è particolare attenzione anche nel costruire questo aspetto che poi in fin dei conti è stato l'aspetto perdente dell'anno scorso perché, insisto nel dire, l'allestimento tecnico-tattico sembrava essere perfetto e poi quel che non ha funzionato nella dinamica probabilmente è qualcosa che non ha permesso di avere il rendimento da parte dei calciatori, ripeto, sia individualmente sia nell'insieme. Quando capita questo vuol dire che forse l'alchimia non era quella giusta? Sul passato non lo so e sicuramente ti rispondo che proprio per questo poi ti ho detto che poi la responsabilità per il resto sarà principalmente mia sul costruire. Dal 3 luglio arriverà un gruppo che deve diventare squadra dentro e fuori al campo e con quell'alchimia la devono trovare, la dobbiamo trovare con il lavoro, con l'idea, con il credere in quello che fai perché poi le caratteristiche tecniche o tattiche non possono bastare da solo. Poi è come un'orchestra, no? E quindi l'orchestra poi deve andare insieme e quello credo che sia giusto che sarà compito mio. Questo farli diventare squadra è prima possibile. È il compito poi insomma più difficile per l'allenatore. Quindi sul piano concreto c'è l'idea di trattenere i calciatori che vogliono rimanere al Cagliari e poi sulla base di questo trovare quei calciatori che completano la rosa valutando a fondo anche quelli che sono i giovani. Di giovani si parla di 4-5 che potrebbero rimanere in pianta stabile. Bisogna capire quanti ne verranno portati. Ci auguriamo che non ci si limiti solamente a quelli dell'ultima stagione perché anche quelli due stagioni fa ad esempio meritavano attenzione. Parlo di Contini, Marigoso e via dicendo, quei giocatori che magari sono stati dati in prestito e che non hanno reso immediatamente in Serie C una categoria un po' difficile per quello che valgono. Quindi bisogna capire un po' qual è il modello di calciatore, qual è il livello di convinzione. E nella seconda domanda che ho fatto l'idea era proprio quello di cercare di capire se c'era un leader di differimento, se c'era una spina dorsale già identificata. Non c'è ancora. Ora arriveranno i calciatori e a quanto mi è parso di capire, Liverani parlerà con ciascuno di loro per capire il loro grado di motivazione, per capire se possono essere adatti per la stagione. E sulla base di questo ci saranno quelli che rimarranno o quelli che partiranno. Qualcuno potrebbe anche rimanere però i tempi, come abbiamo sentito, non dovranno essere lunghi come sono stati lunghi in passato e cioè prima, molto prima del fine del mercato e quindi prima del campionato ci dovrebbe essere una squadra già costruita. Noi saremo a controllare tutti questi aspetti perché sono fondamentali. Gli errori del passato non si devono ripetere e uno di questi errori è stato proprio quello di allestire la squadra o di aspettare di completare la squadra ai primi di settembre. Pensate un po', si perderebbe veramente tutta la preparazione e anche in un pezzo di campionato, rischiando poi di dover inseguire il livello migliore e quindi rischiando di perdere anche il treno delle prime che può essere quello determinante per l'eventuale promozione. Quindi è fondamentale che Liverani capisca subito di chi deve, su chi può puntare tra quelli che vogliono rimanere e lì deve essere molto attento nella lettura delle cose e sulla base di questo anche quelli che vogliono e fortemente vogliono venire a far parte del progetto Cagliari. Chiaramente dopo aver considerato quei giovani che possono fare il caso, quindi tre livelli prima chi rimane, secondo quali giovani possono eventualmente subentrare, terzo livello quali acquistare per completare la rosa e dargli la concretezza finale. Questa di comune d'accordo con il direttore sportivo Capo Zucca e chiaramente con l'intera società. Però per adesso purtroppo al 27 di giugno abbiamo Liverani, le sue idee, la sua determinazione la sua passione, il suo ottimismo ma per ora nient'altro. In attesa di capire un po' quali saranno i nomi del nuovo Cagliari e soprattutto quelli che intenderanno sposare una nuova causa che deve risvegliare l'entusiasmo della gente, quella che è stata frustrata da stagioni troppo tristi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!